La Città del Sagrantino La Città del Sagrantino Ad alcune non ho dato tutto l'amore che ero in grado di dare E di questo me ne pento Voglio ancora imparare, voglio ancora andare avanti Sono ancora curioso, più di prima Voglio rimettermi in gioco Ho voglia di altre avventure Ho voglia di esplorare nuovi campi musicali e non solo E sto benissimo Un agosto montefalchese innovativo Alla scoperta delle tradizioni e dell'ottimo cibo Che ogni anno richiama numerosi turisti da ogni dove Per assistere alla ormai celebre Fuga del Bove Durante la quale i quartieri di Sant'Agostino, San Bartolomeo, San Fortunato e San Francesco Si cimentano nella tradizionale rievocazione storica Taverne aperte tutti i giorni per gustare gli ottimi cibi del territorio E degustare un buon bicchiere di Sagrantino In uno dei borghi più belli d'Italia Questo concerto apre La serie di eventi che a Montefalco È in programma per il mese di agosto Infatti da questa serata fino al 19 agosto In piazza del Comune ci saranno spettacoli di danza, di teatro, di musica, concerti Spettacoli che si susseguiranno per far godere di un'atmosfera meravigliosa I visitatori che a Montefalco vengono per usufruire sia del buon mangiare che del buon bere Per versi un buon calice di Sagrantino Un altro meno Un altro meno E vengono mangiare 1 1 2 1 3